Buongiorno, io amici lo ritengo un capolavoro, parliamo di cuore, di maestro Edmondo de Amicis, la versione integrale, il nostro maestro. Anche il nostro maestro mi piace. Dopo questa mattina, durante l'entrata, mentre egli era già seduto al posto, si affacciava di tanto in tanto alla porta della classe qualcuno dei suoi scolari dell'anno scorso per salutarlo. Si affacciavano passando e lo salutavano. Buongiorno signor maestro, buongiorno signor per beni. Alcuni entravano, gli toccavano la mano e scappavano. Si vedeva che gli volevano bene e gli avrebbero voluto tornare con lui. Egli rispondeva buongiorno, stringeva le mani e gli porgevano, che gli porgevano ma non guardava nessuno. Ad ogni saluto rimaneva serio, ma sto cagando, ma è durissimo.